Un testa a testa fino all'ultimo voto si profila negli Stati Uniti di America, per l'elezione del nuovo presidente. Quello che è certo, è che se i democratici USA hanno scelto in massa per il voto per corrispondenza, i repubblicani hanno preferito quello tradizionale recandosi alle urne, l'ondata rossa repubblicana, come definita da molti osservatori, potrebbe quindi essersi abbattuta sull'America proprio il giorno dell'Election Day. E si tratta dell'affluenza più alta dal 1908. I primi numeri ufficiali sono arrivati da Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont e Virginia. Dopo mezz'ora è il turno di West Virginia e Ohio, con quest'ultimo a poter già essere un primo ago della bilancia per capire chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. A mezzanotte si sono chiusi i primi seggi in Kentucky e Indiana da cui Trump ha incassato quindi i primi 19 grandi elettori. Chiusi anche i seggi in Georgia, South Carolina, Virginia e Vermont, primo Stato nettamente pro-Biden. Lo spoglio è poi proseguito in Florida. Lo Stato può essere fondamentale nella corsa alla Casa Bianca grazie ai suoi grandi elettori. Stesso discorso per la Georgia, dove Biden appariva invece in testa ma con un vantaggio che è diventato sempre più sottile fino a ribaltare il pronostico. Il West Virginia viene invece dato per certo come feudo repubblicano. Idem per il South Carolina che sembra saldamente in mano repubblicana. Miami sorride al presidente uscente. Secondo le prime conferme ufficiali, la Florida appare sempre più repubblicana, confermando una tendenza che si era vista già dopo la prima ora di spoglio. Lo staff di Biden ha annunciato alla stampa di considerare praticamente perso lo Stato oceanico ma di non considerarlo come l'inizio di una tendenza valida per tutti gli stati del Sud. La campagna di Trump ha invece annunciato già la vittoria. Lo spoglio durerà ancora alcuni giorni, soprattutto a causa dei voti per posta. E proprio sui voti per posta che Donald Trump si è fatto sentire, contestando soprattutto il fatto che non possano essere accettati voti postali pervenuti dopo la chiusura dei seggi. Ancora un po', e sapremo chi è il prossimo presidente degli USA. Ricordiamo che le politiche degli antagonisti sono completamente opposte, quindi queste elezioni, nei tempi apocalittici che viviamo attualmente, sono particolarmente importanti. In particolare Biden è appoggiato dal nuovo ordine mondiale, cioè dal Deep State dai banchieri sionisti, dalla massoneria e dai potenti gesuiti. Mentre Donald Trump ha attuato nettamente una politica di sovranità popolare, contro i centri di potere satanici prima menzionati. Queste elezioni rivestono dunque un notevole rilievo storico. Grazie a tutti.